Shhh! Hai sentito? Sto riprendendo. Il mio nome è Holly King. Sono una studentessa di psicologia all'Università dell'Oregon. Nel 2008, su un giornale, mi capitò di leggere un articolo che parlava di 30 illustri scienziati riuniti in una remota area dei Monti Urali, in Russia. Ne ho parlato al mio amico Jensen, che subito ha detto che potevamo farne un documentario. Qualcosa ha terrorizzato i ragazzi al punto di cercare la fuga lacerando la tenda dall'interno e correndo via a piedi nudi nella neve alta. Ci sono sicuramente radiazioni in quest'area. È un bunker! Jensen! Sono tornati indietro per me! Ti prenderanno se non ti decidi a muoverti! Alzati! E Heh! A Einas! Hoorai! 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 Hoorai!